A Fiumalbo è stato inaugurato il nuovo ponte di Casalino alla presenza del Vice Ministro delle Infrastrutture, onorevole Galeazzo Vignami. Interventi come questi consentono una infrastrutturazione significativa in territorio dove riteniamo essenziale garantire non solo la presenza dei servizi ma anche una possibilità di accesso. Il Governo crede davvero nelle zone interne e queste risorse sono stanziate bene per garantire la continuità della comunità che è bene, che presidi il territorio. La realizzazione del ponte è stata finanziata con i contributi del Ministero dell'Interno per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, confluito nel PNRR nella misura M2C4 per un importo di 659.870 euro al netto dell'incremento previsto per l'aumento dei costi dei materiali del 10% circa. Le condizioni strutturali, la vita utile del vecchio ponte ormai erano arrivati al punto di non ritorno, non era possibile fare una ristrutturazione per cui si è pensato di costruire un nuovo ponte, in questo modo però c'è stata anche l'opportunità di creare una viabilità alternativa al centro storico di Fiumalbo. La realizzazione della strada doppia corsia che da questo ponte porta al seminario permetterà di estendere la pedonalizzazione del centro storico perché Fiumalbo è bello per essere vissuto turisticamente dalle famiglie a piedi in maniera slow. Il comune di Fiumalbo esaurisce la risorsa del PNRR già citata, che prevedeva un milione di euro di disponibilità finanziabile per comune, con quest'ultimo progetto approvato per 400.000 euro, con il quale riesce a mettere in sicurezza la sponda destra del rio Aquicciola e la sottostante viabilità di servizio del centro storico, nel tratto che da nuovo ponte porta al seminario, oltre all'asfaltatura di parte del piazzale che resta adiacente alla strada, dove saranno disegnati stali di parcheggio e installate aiuole, atti a organizzare la destinazione d'uso dell'area, oltre a garantire la corretta fruizione del marciapiede lungo il fiume. Servirà proprio per evitare che le auto in determinati periodi passino da Piazza di Olanda, un'altra piazza molto importante dove è stato piantato la bette quando nacque Iolanda di Savoia e che comunque è l'estensione naturale del nostro centro.